L'Assemblea condominiale di Via Malpighi non si terrà. Secondo il SUNIA e il Sindacato degli Inquilini, all'ordine del giorno infatti ci sarebbe l'approvazione dei bilanci quadriennali, ma dicono dal Sindacato, nei condomini si approvano quelli annuali. Il Sindacato degli Inquilini del caseggiato popolare di Via Malpighi torna quindi a far sentire la propria voce chiedendo il rinvio dell'Assemblea al Presidente di Arezzo Casa Gilberto Dindalini e al Sindaco di Arezzo Alessandro Chinelli. Oltre al problema di forma, sottolinea il Sindacato, ci sarebbe anche un problema di sostanza. Alcuni assegnatari sembrano avere un debito di oltre 1.500 euro, sottolinea Fabio Buricchi, segretario del SUNIA, altri un credito dello stesso importo, ma tutti a quanto ci risulta hanno regolarmente pagato gli importi richiesti in bolletta. Il SUNIA ha quindi scritto al Sindaco di Arezzo chiedendo un intervento nella sua veste di proprietario degli immobili interessati. La questione del bilancio segue quella dell'amianto e si aggiunge alle inadeguate azioni in materia di manutenzione, sottolinea Fabio Buricchi. Arezzo Casa dichiara di aver speso 750.000 euro per Via Malpighi e nessuno mette in dubbio questa spesa. I fatti evidenziano però, prosegue Buricchi, che l'investimento non ha prodotto i risultati necessari, dal piazzale adiacente al numero civico 14, sovrastante le cantine, continua a filtrare acqua. Anche poche gocce d'acqua sono sufficienti per allagare i fondi. Il SUNIA chiede quindi al comune di Arezzo un incontro che abbia al centro tutte le questioni che interessano Via Malpighi, dalla manutenzione all'amianto, per arrivare dunque alla gestione condominiale.